L'informazione locale di Radio Street Messina La radio racconta in diretta la realtà locale e nazionale e coinvolge direttamente i protagonisti con inviati e collegamenti in diretta. Giovane non solo la radio ma anche lo staff, composto da oltre 40 collaboratori tra tecnici, disjockey, animatori e giornalisti. Tra i programmi a tutta mammola è l'intrattenimento per eccellenza, che spazia da temi leggeri come il compleanno del giorno e le musiche dell'angolo indie, ad argomenti seri, discussi e commentati dai conduttori e dagli ascoltatori. Il brunch porta in onda invece ogni giorno le notizie più eclatanti e, come una vera colazione, i sapori della musica e dell'informazione del mattino messinese. Non mancano i GR regionali e nazionali in onda circa ogni ora. La radio ha a disposizione un sito e una pagina Facebook nel quale gli ascoltatori possono interagire in diretta con i conduttori. Per il momento è tutto. L'informazione locale di Radio Street torna tra circa un'ora.